Bravo, lascio qua. Bravo barbiere. Eccolo là. Eh sì. Allora è arrivato... Nicola Babbe Shop. È arrivato il Babbe Shop, il barbiere. Barbe Shop hai detto bene. Sì. Perché non sono un barbiere, c'è differenza. Ah, che differenza c'è? Che dal barbiere entri in un salone, e dal Babbe Shop entri in un'emozione. Ah, ok, ok. Scusatemi un attimo. VITO! Ci vengono detto, che è la storia di Vito o pesca, che si sapeva quando è cammenza, non si sapeva quando farnesce. Vuoi comprare una vocale? No. Che succede? Quello Vito, l'apprendista, non apprende. Scusatemi un attimo. VITO! Perché la gente entra con quella faccia brutta? Ti ho detto scaglionati, non scoglionati, Vito. Ok. E non capisce che qui non possiamo sbagliare. Qui è tutta gente di un certo livello. Livello. Bravissimo. Comunque io adesso devo scappare. Di un certo livello. Livello? Non avevo capito. Comunque ragazzi vi dico una cosa, io sono un professionista, ho un sacco di gente da quella parte. Ricordatevi che per avere capelli belli è importante l'acqua durante lo shampoo. Ah, ok. Per esempio io ho il capello morbido, acqua naturale. Io il capello mosso? Acqua frizzante. E io invece? Acqua liscia! Ma che significa? Pubblicità! Ci vediamo dopo, poi me lo spiega! Ci vediamo dopo, tra poco qui! A tra poco! No! 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 No!